Tre giorni caldi per apposte italiane, tre giorni di presidi indetti dalle rappresentanze sindacali fino alla 5 aprile. Presidi davanti alla filiale più centrale, quella di Via Guido Monaco ad Arezzo, per sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche inerenti a poste italiane. La nostra battaglia principale riguarda la possibile ulteriore privatizzazione di poste. A livello centrale a Roma sembra che la politica abbia un po' stoppato questo percorso, però certamente fino a che non viene ritirato il decreto legge, il rischio e le varie sospensioni non sono per noi un motivo di tranquillità, perché il rischio comunque nel tempo può esserci. E privatizzare poste vorrebbe dire distruggere l'ultima azienda paese in Italia. Tra le problematiche, quella maggiormente sentita dalla cittadinanza e quella del recapito, sono tanti disagi dovuti ai giorni alterni? Sicuramente la popolazione la sta ascendendo tanto in tutta la provincia, con la problematica che il postino in quella zona che fa quel giorno porta la corrispondenza doppia. Caricato della doppia corrispondenza, firma. Non ci dimentichiamo che è dove si perde maggior tempo, quindi non riesce praticamente quasi mai a portare a fine tutta la consegna della posta giornaliera. Quando si rientra e ritrovano un monte di posta, sceglie la roba più importante, qualcosa rimane indietro e tutto a discapito. Innanzitutto della cittadinanza, della popolazione, a discapito dei lavoratori che ne stanno patento tantissimo. Quindi questo recapito ai giorni alterni ci sta mettendo ad Arezzo, ma vi posso dire in tutte le province dove è partita questa storia, non ce n'è una che sia una che funziona. È un disastro.